Valentino Sant'Elia, la particolarità di questa nuova macchina, una 146 un po' modificata. Questa macchina diciamo un po' modificata, addirittura l'equaforomotore c'è anche una parte d'ome, evitare il vetamento della macchina in curve pericolosi, poi diciamo l'ho dotata di scatola nera, registra tutto, andamento della macchina, tutto, poi diciamo per quanto riguarda ci ho installato AR e ci sono stati super kit, super car, e quindi insomma la macchina ci faccia dei raduni tra amicizie e cose, insomma stiamo un po' insieme, la mia passione, anche per quanto riguarda la mia figlia Maria, mi piace queste cose, è dotata di tutto questo sulla nostra macchina, considerando che lei dice che è la sua, comunque fra un anno e due non sarà più mia, e con tanto di rimpianti, perché la macchina è anche nera come quella stessa macchina di David Assolo, l'adoro. Gerdo, questa passione è per super kit, ma ci ha introdotto lei, mia figlia, perché tanto è che lei se lo vede con una certa energia, allora mi ha trasportato pure a me, stamattina ho visto anche delle puntate, molto bello perché sembra che vede la mia macchina, a me mi hanno fermata parecchie volte, l'unica cosa è che dichene che un po' va a discendere, e basta, però la macchina sta revisionata, tutto a posto, quindi no problemi. Ciao, bello! Ciao, amico! Identificati! Questa è la voce del computer che governa questa macchina, sigla internazionale KITT Night Industry 2000, chi ti preferisci? Grazie! Sono io che ringrazio te, è un piacere seguire il tuo ordine. Senti, amico! Cosa posso fare? Facciamo benzine, buona idea!